Era stato rubato nel dicembre 1975 in un'abitazione di calco nell'Abrianza Lecchese. I carabinieri per la tutela del patrimonio culturale hanno recuperato in Germania una tela seicentesca alla maternità del pittore bolognese Carlo Cigani. Un dipinto a olio delle dimensioni di 64 cm x 58 cm, rintracciato e rimpatriato grazie alle verifiche che i militari svolgono quasi quotidianamente sui cataloghi d'asta all'estero. L'indagine è scattata nella primavera del 2018 dopo che i carabinieri di Monza avevano ricevuto una segnalazione da parte del nucleo specializzato nel recupero di opere d'arte trafugate. La maternità del Cigani, rubata 45 anni fa a calco, era infatti elencata in un catalogo in una casa d'aste bavarese ed era in vendita a un prezzo base di 8.000 euro. L'attività investigativa ha permesso ai carabinieri Brianzoli di ricostruire la storia del quadro scomparso per anni dopo il furto. Nel 2016 il dipinto era presente in un antiquario veneto prima di finire due anni dopo nel catalogo della casa d'aste tedesca. L'opera è stata dunque rimpatriata al termine di un'indagine internazionale che ha visto coinvolta anche la procura di Monaco e la provvizia bavarese. Due cittadini italiani sono stati denunciati per l'accaduto e una volta recuperata, la tela è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.